di nuovo un rinviato a vittorio allo sfratto della famiglia Guarascio, ieri a difendere la vedo della figlia del muratore che si diede fuoco due anni fa, un cordone umano che ha impedito appunto lo sfratto. A Ragusa la polizia arresta una coppia di trafficati di stupefacenti, lui tunisino, lei ragusana, trovati in possesso di ucchiero di Ashish, la donna che ha cercato anche di schiappare, ha poi aggredito gli agenti. Conclusa Scoglitra ha messo in sicurezza la rivela Lanterna dopo gli sversamenti di liquama della scorsa estate e intanto recente analisi confermano che l'elitorale della frazione non è inquinato. Al via Vittorio Scoglitti l'assistenza scolastica agli alunni portatori di Andica, nonostante taglia e trasferimenti regionali statali il servizio verrà assicurato a 95 alunni di Vittorio della frazione. Ancora critica all'atto aziendale presentata alla conferenza dei sindaci dal manager dell'Aspesette Maurizio Arigò. Stavolta a storcere il naso sono i 5 stelle Mario Lugia, Lorefici e Vanessa Ferreri. Benvenuto al nuovo appuntamento con la nostra informazione. Allora è stato rinviato ancora una volta lo sfratto e la famiglia del muratore vittorese Giovanni Guarascio che nel maggio del 2013 come si ricorderà si tolse la vita come gesto estremo per non farsi togliere la casa e ieri è stato organizzato un nuovo sit-in e dopo ore di trattative è stato deciso un breve rinvio. Nuovo sit-in davanti all'abitazione di Giovanni Guarascio e il muratore vittorese che nel maggio 2013 si diede fuoco per non farsi sfrattare dalla sua casa già venduta all'asta. Ieri mattina era prevista infatti l'immissione in possesso del nuovo proprietario e molti esponenti politici, semplici cittadini ed esponenti di associazioni varie hanno raggiunto la casa di Via Brescia dove vivono la moglie ed una delle figlie di Guarascio. Il caso era stato affrontato qualche settimana fa in un'aula del Tribunale di Ragusa. Qui gli avvocati di parte e gli eredi del muratore erano comparsi davanti al giudice civile per la possibile sospensione dell'esecuzione dello sfratto dall'immobile di Via Brescia nei confronti delle due donne. L'avvocato della famiglia Guarascio, Aurora Di Mattea del Foro di Catania, che da poco ha sostituito la collega Giulia Artini, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione in attesa della conclusione del processo penale che vede indagate tre persone per i reati di turbativa d'asta e distorsione. Il neoproprietario della casa, difeso da Carmelo Scarso, un avvocato difeso da Daniele Scrofani e un commercialista difeso da Santino Garufi. Ieri mattina, dopo ore di trattative, il comitato ha ottenuto un rinvio al 5 novembre prossimo nelle more della pronuncia del giudice riguardo alla richiesta di sospensione della procedura. Il rinvio, dichiara Marcello Guastella, coordinatore del comitato, ci lascia con l'amaro in bocca, visto il breve lasso di tempo concesso. Il comitato chiede che la procedura venga sospesa in attesa della definizione del processo. Questo dice a garanzia di tutti. Ci opporremo allo sfratto invocando la mobilitazione di massa perché la famiglia Guarascio non venga sbattuta fuori casa. Altresì ci stiamo attivando perché si possa trovare una soluzione che possa garantire sia la famiglia che il nuovo proprietario. A Ragusa due trafficanti di droga arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione di stupefacenti, oltre che resistenza pubblico ufficiale. In uno zaino ottenevano un chilogrammo di hashish già diviso in dosi. La polizia di Stato Squadra Mobile ha tratto in arresto due trafficanti di droga. Si tratta di Aimento, un sito unisino di 35 anni, clandestino e senza fissa dimora. E Roberta Melli, ragusana di 28 anni, entrambi con numerose segnalazioni concernenti gli stupefacenti. L'operazione è scattata ieri sera intorno alle 19.30 al capolinea degli autobus di via Zama a Ragusa. Durante uno dei normali servizi antidroga, gli uomini della squadra mobile stavano osservando i passeggeri provenienti da Palermo. Il loro intuito investigativo li ha portati a controllare una coppia che si guardava costantemente attorno. La donna è inoltre molto conosciuta dalla polizia che l'ha arrestata più volte per droga. I due agenti in servizio si sono quindi avvicinati e hanno chiesto i documenti. Per tutta risposta il tunisino è scappato, ma è stato rincorso e bloccato dopo pochi metri. Ne è nata una colluttazione. La donna, per dare manforte al suo complice, si è avventata sugli agenti colpendoli con calce alla schiena e schiaffi. Neutralizzato il tunisino, uno degli operatori ha preso per un braccio la donna che ha iniziato a urlare di lasciarla stare in quanto era incinta. Bloccata con tutte le cautele del caso, la donna ha approfittato del momento per strappare dalle spalle del tunisino uno zaino e gettarlo al di là di una recensione. Sul posto è intanto giunto una volante della polizia, chiamata dai cittadini. Dentro lo zaino è stato trovato un chilogrammo di hashish diviso in 10 panetti da 110 grammi. Il valore della droga sul mercato si aggira intorno ai 5.000 euro e le dosi ricavabili sarebbero state circa 4.500. L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere a Ragusa e la donna a Catania. La stessa, una volta negli uffici della Polizia di Stato, ha ammesso di non essere affatto incinta, ma di averlo detto per agevolarsi il tentativo di fuga. Ultima pagina inaugurata stamani, c'è svolta una cerimonia di inaugurazione nel centro polifunzionale a Vittorio per i servizi ai migranti, con sede in via generale Diaz. Immobile, come è noto ex-sede della Ferrotel, è ristrutturato grazie ai fondi del Ponsicurezza. Inaugurato stamani il centro polifunzionale ex Ferrotel per i servizi ai migranti di via generale Diaz. L'ex Ferrotel è stato ristrutturato grazie ai 2 milioni di finanziamento ottenuti attraverso il Ponsicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, predisposto dal Ministero dell'Interno. A partecipare anche il sottosegretario del Ministero dell'Interno, con delega all'immigrazione, Domenico Manzione. Anche il centro che abbiamo inaugurato ieri, esattamente come quello di oggi, sono centri destinati all'integrazione. La vera sfida del futuro è esattamente questa, l'integrazione, perché salvare vite umane senza porsi il problema di che cosa se ne fa dopo è fuori discussione. Poi, lo Stato si deve far carico di tutte le situazioni di disagio, ma distinguere nelle situazioni di disagio tra chi è cittadino di uno Stato e chi è cittadino di un altro Stato, secondo noi, viola i principi più basilari dell'umanità. Dopo il taglio del nostro inaugurale si è svolto un incontro moderato dal giornalista Andrea Di Falco sul tema all'integrazione, obiettivo necessario di una società multietnica. La scelta di destinare l'ex sede dei ferrovieri a centro polifunzionale per i servizi ai migranti vuole essere strategica per rafforzare e sviluppare ulteriormente le politiche dell'immigrazione, sempre più basate su criteri positivi di accoglienza e integrazione, capaci di affrontare il fenomeno in tutta la sua complessità. Sono servizi per la città e ovviamente anche il finanziamento è stato ottenuto per i migranti. 2 milioni di euro, tanti uffici che verranno a insediarsi qui, quindi un edificio che era un elemento di degrado purtroppo abbandonato e in condizioni fatiscenti, oggi viene ripreso e consegnato alla città in splendida forma. Servirà per i migranti ma servirà anche per tanti giovani e cittadini vittoriesi, visto che ci saranno qua diversi uffici, dai servizi sociali a una piccola biblioteca, al punto internet, al laboratorio artistici e artigianali e al centro donna che si deve occupare non soltanto delle donne vittoriesi ma anche delle migranti che sappiamo essere in difficoltà nelle nostre zone dove lavorano. L'Assemblea regionale siciliana ha detto no ieri al referendum abrogativo sulle trivellazioni, la consultazione tuttavia si farà lo stesso perché con l'uoto favorevole della Sardegna è stato raggiunto il quorum previsto di almeno 5 regioni per proporre il referendum, Basilicata, Regione Capofila, insieme a Marche, Molise e Puglia. Sul governo Crocetta è un'altra bufera dunque scatenata al Movimento 5 Stelle che accuse il PD e il governo di essere asserviti a Roma. L'Ars non ha raggiunto il quorum di 46 voti per i due quesiti relativi all'articolo 38 dello Sblocca Italia e di quell'articolo 35 del decreto sviluppo. Il primo ha ottenuto 38 voti favorevoli, il secondo 32, un voto che arriva dopo le tante polemiche sulle trivellazioni offshore nel canale di Sicilia e una mozione votata proprio dall'Ars. Ultimata la messa in sicurezza della riviera Lanterna scogliti dopo gli sversamenti dovuti alle piogge di agosto. A dare notizia l'unità del progetto intersettoriale della gestione dei lavori pubblici è parti. Completata la procedura di messa in sicurezza della porzione di spiaggia della riviera Lanterna interessata dall'evento accidentale di sversamento delle acque dovute all'evento meteorico dell'8 ed 11 agosto 2015. A dare notizia l'unità di progetto intersettoriale, progettazione e gestione dei lavori pubblici e appalti che lo ha comunicato alla provincia regionale di Ragusa. Lo scorso 14 settembre, si legge nella nota trasmessa dal dirigente Angelo Piccione, sono prevenuti i risultati delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche che hanno evidenziato come la concentrazione dei contaminanti sia al di sotto dei limiti di legge. Pertanto, aggiunge, si ritiene che gli interventi eseguiti possano essere considerati conclusi e il sito risulta essere stato posto in sicurezza. Pur essendo derivato da eventi atmosferici, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nicosia, e in particolare da forti acquazzoni e da sversamenti fognari provocati dall'accesso di pioggia, eppur essendo stati i danni di gran lunga inferiori a quelli che si sono registrati in altre città, gli oppositori e i soliti denigratori avevano lanciato chissà quali allarmi su presunti danni ambientali e inquinamento della costa. Non solo i nostri uffici hanno risanato e pulito l'aria accelermente, dice, ma a distanza di qualche giorno l'opera denigratoria dei soliti detrattori è stata smentita dall'esito delle analisi. Ritengo giusto allertare le istituzioni in caso di disagio ambientale, dichiara, ma credo che sia inutile e stupido effettuare il gioco al massacro contro Scoglitti, come qualcuno fa da qualche anno solo per mortificare gli sforzi compiuti dall'amministrazione comunale e dagli operatori turistici per promuovere il turismo nella nostra frazione. Il presente alla federazione agente rappresentanti di commercio Lorenzo Battaglia ha inviato una nota ai rappresentanti istituzionali del territorio per informarli che domani, venerdì 25, si darà un incontro presso l'hotel Badia Ragusa a partire dalle 15.30 che aveva come oggetto il raddoppio della Ragusa-Catania sviluppo nell'ITA di una irrinunciabile opportunità. I componenti, il comitato ristretto, relazioneranno sui recenti avvicendamenti ai vertici del Ministero delle Infrastrutture, ma anche sui successivi sviluppi negli indirizzi di programma che hanno generato, come è noto, incertezze nell'evoluzione dell'ITER procedurale per realizzare il progetto. Saranno graditi, ha dichiarato lo stesso battaglia, i contributi che le istituzioni locali interessanti e le organizzazioni sindacali potranno portare a tale incontro. Al via Vittorio Scoglitti, l'assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, nonostante numerosi taglia e trasferimenti, dal comune si dicono soddisfatti per essere riusciti ad assicurare il servizio. Dopo la prima fase di verifica del reale fabbisogno delle singole scuole a Vittoria, da ieri è iniziata l'assistenza scolastica specialistica agli alunni portatori di handicap. Ancora una volta, dichiarato l'assessore alle politiche sociali, Francesco Cannizzo, ad onta dei tagli nei trasferimenti, siamo riusciti comunque ad assicurare il servizio che viene erogato con bondi comunali e che riguarda circa 95 alunni delle scuole materne, elementari e medie di Vittorio Scoglitti. Si tratta indubbiamente di un numero elevato, in quanto l'amministrazione comunale ha scelto di assicurare il servizio non solo ai bambini con disabilità grave, ma anche a quelli con disabilità lieve e gli operatori che le assistono sono 18, tutti dotati di specifiche competenze. Inoltre, prosegue Cannizzo, a differenza di quanto avviene negli istituti superiori, la cui competenza aspetta l'ex provincia regionale e da cui mi aspetto risposte eccelleri in termini di servizi, il nostro comune è riuscito a garantire l'assistenza sin da primi giorni di scuole per l'intero anno scolastico. L'esponente di giunta, Nicosia e Norte, si scusa per eventuali piccoli disservizi che potrebbero verificarsi in questi primi giorni e che sono dovute esclusivamente, dice Cannizzo, alla fase di assestamento del servizio, considerato appunto l'elevato numero di alunni presenti. A Vittorio rischia di diventare il simbolo della politica fallimentare ambientale in città. Continuano infatti a lamentarsi le famiglie di Via Rattazzi, prevede gli alberi situati nell'ampio spazio dietro gli uffici del giudice di pace, che sono riversati da settimane, per non dire mesi, sulle loro finestre. Famiglie che sono costrette, come è nota, a tenere la luce delle stanze accese per tutto il giorno, con inevitabile spreco di energie elettriche, questo nonostante le numerose e reiterate richieste di intervento. Non si attenua in provincia il dibattito intorno al nuovo atto aziendale presentato dall'Asp7 e alla recente conferenza dei sindaci, ma sono soprattutto le critiche che risaltano in quest'ora, come ad esempio quella del Movimento 5 Stelle. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e non se ne può fare una questione di campanile. Dopo il senatore Giovanni Maura stoccere il naso sull'atto aziendale presentato dal manager dell'Asp a Ricoy sindaci Blei, tocca ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri. In prime stanze, infatti, affermano la Lorefice Ferreri, va segnalato con rammarico che, nonostante la nostra richiesta inoltrata all'Ars, a tutt'oggi non disponiamo della proposta di atto aziendale. Questo di per sé costituisce un atto grave, in quanto non c'è possibile entrare nel medio della proposta, ne intendiamo parlare per sentito dire. Possiamo tuttavia esprimere alcune considerazioni di carattere generale. La conferenza dei sindaci, rimarcano le parlamentari grilline, si è spaccata sulla relazione da rappresentare, non riuscendo infatti a trovare un punto d'accordo. Inoltre, ed è questo forse l'aspetto più interessante, molti dimenticano di appartenere a forze politiche che sul territorio si battono per la conservazione delle realtà comunali, mentre a livello nazionale determinano taglia la sanità per circa 2 miliardi e mezzo di euro, spacciandoli per risparmi. La riduzione dei posti letto è dovuta a provvedimenti quindi nazionali, verso i quali il Movimento 5 Stelle si oppone in tutte le sedi. Pertanto, concludono Lorefice Ferreri, coloro che in questi giorni esprimono contrarietà, sono poi gli stessi che governano il Paese o che non mancano di fare da stampella al governo al momento opportuno. Sull'argomento Ragusa è in tante in queste ore la conferenza dei capi gruppo consigliare approvata all'unanimità un documento relativamente appunto a questo piano aziendale dell'Asp. Nel documento si chiede in pratica al direttore generale Maurizio Aricò e al sindaco Piccitto di non adottare il piano aziendale presentato, ma di avviare invece un percorso condiviso e ampiamente partecipato da concludersi in un tempo concordato. Si avvia intanto la chiusura al reparto malattie infettive dell'ospedale civile Ragusa, una dà notizia a Mario Chiavola dell'associazione Ragusa e Movimento che parla di una scelta infelice e che penalizza l'utenza. Mentre Papa Francesco apre le parrocchie all'accoglienza anche degli extracomunitari, l'Asp 7 di Ragusa decide di chiudere l'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale civile, punto nevralgico dell'assistenza ai ormai innumerevoli richiedenti asilo, provenienti da Africa e Medio Oriente. E quanto denuncia il presidente dell'associazione Ragusa e Movimento, Mario Chiavola, dicendosi estremamente preoccupato. Nell'ambito della ristrutturazione della pianta organica, spiega Chiavola, sembra destinata a scomparire il reparto dell'ospedale del capoluogo che sarà accorpato a quello di Modica, con presumibile riduzione dei posti letto totale. I vari attori di tale scelta dovranno chiarire come, a fronte di tutto ciò, sarà possibile affrontare quella che non è più un'emergenza, ma una realtà sempre più presente di assistenza sanitaria di una popolazione che non va isolata e ghettizzata, ma che va integrata alla residente, per questo stesso motivo, assistita dal punto di vista sanitario per il proprio e l'altrui benessere. Voglio ricordare che l'unità operativa in questione, aggiunge, ha assicurato soluzioni efficaci ed efficienti ai vari problemi di natura infettivologica che si sono presentati. Riteniamo che gli utenti ragusani debbano far sentire la propria voce, perché non ci si lamenti poi quando si registra la necessità e si scoprirà che malattie infettive al civile non esiste più. Stiamo valutando, conclude l'esponente di Ragusa in movimento, se avviare una campagna di raccolta firme per fare sentire in maniera consistente la nostra voce o se adottare altre iniziative di protesta ancora più forti. Ragusa, il sindaco Federico Piccito e il vice Massimo Iannucci hanno ricevuto i rappresentanti del comitato intercontrade durante l'incontro. I rappresentanti del comitato hanno consegnato al primo cittadino le quasi 500 firme già raccolte per ribadire, attraverso una specifica petizione, il no all'installazione di un'antenna di telefonia mobile incontrata a Cerasella Mangiabove. Il comitato ha inoltre sottolineato analogo e preoccupazioni relative all'installazione già venuta di un'altra antenna di telefonia mobile incontrata a Gatto Corvino. Il vicepresidente nazionale della CN Andrea di Benedetto sarà lunedì prossimo a Ragusa per partecipare ai lavori della cosiddetta Digital Imprese. Si tratta del progetto in partnership che vede le aziende tradizionali incontrare le aziende digitali. Ci sarà anche il vicepresidente nazionale della CN Andrea di Benedetto a partecipare lunedì prossimo a Ragusa ai lavori di Digital Imprese, il progetto realizzato a CNE Piccole e Medie Imprese e che rappresenta in Italia oltre mezzo milione di imprese in partnership con Amazon, Google, CETPG e Registo.it. L'incontro di lunedì servirà in particolare ad illustrare le attività di un progetto che come noto si sviluppano in una serie di eventi caratterizzati da avere propri business match tra imprese che offrono e imprese che siano competenze e strumenti digitali. Ad introdurre i lavori il presidente provinciale della CNE Giuseppe Santocono a seguire l'intervento rappresenta la Camera di Commercio Giuseppe Giannone mentre di Benedetto affronterà un tema di rilievo ossia innovare e far crescere le imprese. La digitalizzazione, ha spiegato lo stesso presidente della CNE Santocono, rappresenta oggi un'importante opportunità per le piccole e medie imprese, un fattore fondamentale per aiutarle a mettere in campo strategie competitive orientate per esempio all'innovazione e alla riduzione dei costi. Quindi per il dirigente della CNE Digital Imprese favorisce il trasferimento alle competenze dei strumenti digitali di cui c'è bisogno attraverso l'incontro fra le stesse imprese e digitale in un percorso di crescita per tutti. Domenica scorsa si è conclusa Marina di Raguse il servizio di salvataggio e soccorso in mare garantito al Presidio Comunale di Protezione Civile ubicata all'interno del porto turistico. Nuovi operatori comunque continueranno a prestare la loro attività anche nella stagione invernale e con l'ausilio dei mezzi nautici garantiranno la tutela e la salvaguardia della vita umane in mare oltre a possibili interventi in casi di emergenza. viene ricordato come dal primo luglio a domenica scorsa 20 settembre sono stati numerosi di interventi operati come a dire 13 persone tratte in salvo, 9 imbarcazioni in avaria soccorse e trainate al porto, 14 bambini dispersi in spiagge e ritrovati e anche una ventina di interventi per quanto riguarda la tutela ambientale. Lo sport domani è comiso grande evento per i 50 anni dell'Unione Sportiva Ardennes, un anniversario per celebrare in pratica le 50 annali di attività della più antica associazione sportiva dell'area Iblea. 50 anni e non sentirli, domani il compleanno dell'Ardennes comiso e l'evento verrà celebrato presso la Pinacoteca Comunale assieme ai dirigenti di ieri e di oggi, degli amministratori comunali e tanti sportivi che vorranno rivivere i momenti più significativi di questo mezzo secolo di vita. Numerose le adesioni in questi giorni ricevute dalla dirigenza impegnata ad organizzare l'evento ma sarà anche l'occasione per presentare agli sportivi comisani le squadre della nuova stagione agonistica, l'Under 14 guidata da Maria Giovanna Pillitteri, la squadra di Serie D condotta da Concetta Marchigiana e poi quella che partecipa al campionato massimo di Serie C affidata al nuovo coach Piero Lombardo. Emozionato come per un successo sportivo il presente Giovanni Sudano e in questa particolare occasione ha dichiarato il massimo dirigente dell'ARD sono tante le persone che dovrei ringraziare per la vicinanza e l'entusiasmo riscontrata ad ogni telefonato incontro. Sudano ha lanciato quindi un abbraccio simbolico e coloroso alla cittadinanza invitandola a partecipare domani venerdì in Pinacoteca all'evento ricordo per dare, ha sottolineato lo stesso dirigente comisano, il meritato tributo ad una società sportiva che nel suo piccolo ha fatto la storia di commiso. I motori adesso, boom di iscritti alla 58esima Monti Iblei, in programma domenica prossima sui tornanti della Chiaramonte Roccazzo, ben 190 in tutto e domani venerdì come da tradizione le verifiche tecnico-sportive, poi sabato le prove ufficiali. Saranno presenti domenica prossima sul tracciato della Roccazzo Chiaramonte Gulfi quasi tutti i migliori specialisti siciliani e calabrese di crono scalata automobilistica. Intanto sorridono gli organizzatori, avendo raccolto l'adesione di ben 190 piloti, evento mai successo nelle presenti occasioni e che rappresenta dubbiamente un'iniazione di entusiasmo non indifferente per lo stesso comitato organizzatore. Domani intanto venerdì sono in programma le verifiche tecnico-sportive, sabato le prove ufficiali e domenica lo start gara 1 che sarà data alle 9.30. Tra i favoriti d'obbligo della vigilia, riflettori puntati anche quest'anno sul catanese Domenico Cubeda, sua sella 2000, ma anche sul marsalese Vincenzo Conticelli, sua sella 30, sull'agrigentino Luigi Bruculeri, su Tatus Masteronda e sul veterane pluridecorato Comisano Giovanni Cassibba al volante della sua Clive Wolf GB08. Tra i possibili guastafeste invece sicuramente il figlio di Cassibba, Samuele, l'altro marsalese Francesco Conticelli, i due catanese Giuseppe Corone, Orazio Maccarone e i trepanese Andrea Raite e Dino Blunde. Ma c'è anche grande simpatia attorno ai nuovi piloti provenienti da Malta, alcuni anche con la possibilità di inserirsi nella classifica assoluta. La Kermess motoristica, presentata intanto oggi in municipio, è valida per il presidioso trofeo italiano velocità della montagna, vera anticamera per il tricolore nonché per il campionato siciliano AC Sport velocità in salita. Siamo arrivati a Pillo con dei fatti nel primo piano. Di nuovo un rinviato a Vittorio allo sfratto della famiglia Guarascio, i redifendere la vedo e la figlia del muratore che si diede fuoco due anni fa, un cordone umano che ha impedito appunto lo sfratto. Il provvedimento però rimane anche se il comitato contro le aste ha annunciato battaglia assicurando la tutela degli interessi sia dei Guarascio che del nuovo proprietario. I rintanto, dopo ore di trattativa, è stato ottenuto un breve rinvio. A Ragusa la polizia arresta una coppia di trafficanti di stupefacenti, lui tunisino, la ragusana, trovata in possesso di un chiero di hashish, la donna che ha cercato anche di scappare, ha poi aggredito gli agenti. Alla fine è stata immobilizzata e una volta ammanettata ammesso di non essere incinta, come aveva invece urlato nel corso della colluttazione con gli agenti. Il valore della droga sequestrata si aggira intorno ai 5.000 euro. Conclusa Scoglitti la messa in sicurezza alla Rivera Lanterna dopo gli sversamenti di liquama della scorsa estate. E intanto, recente analisi confermano che l'elitorale della frazione non è inquinato. Per il sindaco Nicosia si è trattato di un gioco a massacro, portato avanti dall'opposizione a chi denigra la frazione. Tutto questo, dice Nicosia, mortificando i nostri sforzi, oltre che quelli compiuti dagli operatori del territorio impegnati a promuovere il turismo. Al via Vittorio Scoglitti l'assistenza scolastica agli alunni portatori dei handicap. Nonostante taglia ai trasferimenti regionali e statali, il servizio verrà assicurato a 95 alunni di Vittorio della frazione. Si tratta, ha dichiarato l'assessore delle politiche sociali Francesco Cannizzo, di un numero elevato di alunni e questo perché il Comune ha scelto di assicurare il servizio non solo a quelli disabili, ma anche agli alunni con disabilità più lieve. Ancora critica all'atto aziendale presentata alla conferenza dei sindaci dal manager dell'Aspesette Maurizio Aricò. Stavolta a storcere il naso sono i 5 Stelle Maria Lucia Lorefici e Vanessa Ferreri. Le parlamentari grilline rilevano come la conferenza dei sindaci si è spaccata sulla relazione da presentare, non riuscendo a trovare un punto d'incontro. E le due grilline criticano coloro che a livello locale dicono una cosa e poi a livello nazionale fanno il contrario. DG termina qui, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Dovità S Telefo Ne No No M